Sempre al derby sport, sempre le interviste per la fase Champions, siamo riusciti a strappare a team l'abbraccio dei fan e degli autografi. Ancora una volta migliore in campo, in questo 2 a 2 contro i Craiova dei Verdoni. Come ci si sente ad essere ancora il migliore in campo? Una bella sensazione. Come fare l'amore con me? No, è una bella sensazione, abbiamo giocato bene, siamo stati anche un po' sfortunati, un po' troppare, però vabbè. Un punto quindi in questa seconda fase per puntare alla testa del girone o semplicemente sperate di qualificarvi? No, speriamo di qualificarci, anche di vincere. Speriamo sempre di andare in motel! Abbiamo 100 retti! Cercheremo di avere ancora team alle stelle della Champions e tutto il suo entourage di fan. Alla prossima! Alla prossima!